Aveva rischiato di morire come corriere della droga quando lo scorso 15 maggio uno dei 20 ovuli di droga che aveva in corpo si era aperto. Per lui un trentenne nigeriano che molto probabilmente avrebbe dovuto rifornire la piazza a retina erano scattate le manette e adesso arriva anche la condanna a tre anni di reclusione. Il pusher, in viaggio da Napoli verso Arezzo, aveva infatti accusato un malore appena arrivato in città. Uno dei 20 ovuli, 10 di cocaina ed altrettanti di eroina si era rotto. Alcuni connazionali così lo avevano scaricato nei pressi del San Donato, era stato salvato e poi immediatamente arrestato. Stava trasportando circa 200 grammi di droga per un valore che si aggira attorno agli 80.000 euro. Un arresto che era arrivato a pochi giorni di distanza dal Maxi Blitz al parco del Colle del Pionta a conclusione del quale in manette finirono circa 40 pusher. Ieri l'epilogo del processo corrito abbreviato a carico del trentenne nigeriano. Il PM Emilio Bettini per lui aveva chiesto 4 anni ed 8 mesi, il giudice Claudio Lara lo ha condannato a 3 anni. Nei prossimi giorni inoltre si è riservato di decidere sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'uomo.